Il comitato è aggravato se sia un genitore viene anche introdotta la perdita della patria potestà ricevuta per diritto di nascita, diciamo, c'è anche la perdita automatica della cittadinanza italiana, così che lascio la parola a Fusone per una considerazione anche da un luto finale sulla parte. Come il comitato Schengen noi abbiamo affrontato questo problema di foreign fighters già da diverso tempo nel comitato Schengen, dando quindi attenzione a un fenomeno come quelli anche all'indigere con Boca Ram e quello che accade anche in Medio Oriente con la coercizione di questi bambini di questo testo da parte del Consiglio dei Ministri, ma occorre fare una riflessione più generale a livello, in un certo senso, le maglie di sicurezza che Schengen aveva creato, abbiamo visto proprio quello che c'è dietro una lotta al terrorismo, visto che negli ultimi vent'anni con diverse guerre, vorrei iniziare a vedere il terrorista, in questo caso il terrorista… il… il… il…